mi rivolgo a te vincenzo carriero direttore di cosmopolis media hai fatto delle allusioni hai fatto delle strane domande ma luigi abbate effettivamente vorrebbe la caduta di melucci ma più chiaro di come sono stato non posso essere stato lo so che ce l'hai con me ma io ti rispondo facilmente perché io e il collega battista abbiamo presentato una mozione di sfiducia in consiglio comunale che è lo strumento principe più grande per poter sfiduciare il sindaco dinanzi a tutti e i promotori siamo stati io e massimo battista il che significa che siamo la garanzi che questo è l'atto che garantisce la nostra non ferma ma fermissima volontà di mandarlo a casa anche perché caro direttore di cosmopolis media evidentemente tu o non conosci o fai finta di non conoscere o ti è sfuggito l'articolo 52 del testo unico degli enti locali che dice in maniera molto ma molto semplice occorre per presentare una mozione di sfiducia al sindaco la firma deve essere presentata da due quinti dei consiglieri nella fattispecie 13 consiglieri e poi il sindaco con i 17 consiglieri che lo sfiducia non se ne va a casa più chiaro di così abbiamo presentato stiamo raccogliendo le firme stiamo a 10 chi vuole firma e dimostra di volerlo mandare a casa chi non firma evidentemente vuole tenerlo in piedi e vuole proseguire l'agonia con me caro direttore non non ci azzecchi non riesci a a scalfirmi perché io ti sto dimostrando vatti a rivedere l'articolo 52 e poi caro vincenzo carriero tu da un annetto a questa parte stai forse anche un po meno più o meno diciamo un anno stai attaccando questa amministrazione da quando è ritornato rinaldo melucci ma tu in cinque anni mi spieghi della prima consigliatura melucci mi spieghi perché non hai detto una parola contro rinaldo melucci non ne hai detta una io ricordo anche che facevi delle iniziative mediatiche con alcuni assessori dell'amministrazione melucci parlavi e dialogavi ababilmente con il sindaco melucci ma in questi cinque anni come mai eri muto vorrei capirlo e come mai ora improvvisamente distruggi e fai bene a farlo per carità bombardi questa amministrazione perché cinque anni di silenzio mentre io in cinque anni bombardavo politicamente questa amministrazione questa caro direttore vincenzo carriero è la differenza tra me e te quindi caro carriero prima di parlare del sottoscritto rifletti rifletti e studia molto ma molto cosa sia una mozione di sfiducia caro carriero ripeto con me a me non fai né caldo né freddo perché per me parla il mio esempio di vita la mia storia e parla anche questo atto amministrativo che si chiama presentazione della mozione di sfiducia al sindaco in consiglio capito direttore grazie